Lo sguardo fisso sul frecciabianca, poi il salto sui binari, ha scelto di togliersi la vita così l'ex sindaco di Pescara Giuseppe Ciccantelli, 71 anni, gettandosi sotto le rotaie del treno Venezia-Lecce questa mattina, attorno alle 11, alla stazione di Francavilla al mare. L'impatto non gli ha lasciato scampo con il macchinista del convoglio che ha avuto solo il tempo di suonare. Ciccantelli è stato esponente della democrazia cristiana e sindaco di Pescara dal 90 al 93, prima di restare coinvolto in un'inchiesta a Tangentopoli nella nettezza urbana. Oltre ad essere stato primo cittadino è stato anche un cronista sportivo, quando nei primi anni 80 lavorò a Telemare e a Radio Pescara. Ad aiutare l'identificazione sono stati i documenti dell'anziano trovati accanto al corpo in un borsello. La circolazione ferroviaria sulla linea adriatica è tornata regolare solo attorno alle 15. Il treno coinvolto nell'incidente con 200 viaggiatori a bordo è partito con un ritardo di 150 minuti. Quattro frecce, tre intercity e cinque regionali hanno registrato ritardi fino a 150 minuti e un regionale è stato limitato, oltre a tre che sono stati cancellati. Nel frattempo proseguono gli accertamenti della Polfer che si sta occupando delle indagini.